Buongiorno, dato che vi ho sempre salutato dicendo ciao a tutti e benvenuti di nuovo su un libro, però mi sono scocciato, l'ho ripetuto di continuo, quindi sto cercando un nuovo modo per salutarvi e nel frattempo beccatevi un buongiorno. Lo so, non è divertente com'è, ciao amici e benvenuti, però che palle di ricerche, sono mesi che lo dico di continuo. Ok, sfine dello sfogo, quindi consideratevi salutati e oggi parliamo di forme di vita che potrebbero nascondersi in oceani e in modi in cui potremmo trovarli. In realtà parliamo in generale di un nuovo piano da parte della NASA, di come trovare eventuali forme di vita in oceani sparsi per il Sistema Solare. Noi viviamo su un mondo oceano, la Terra, però non è l'unico nel Sistema Solare. Ce ne sono altri intorno alle lune di Giove, per esempio, o Saturno, ce ne sono altri come i pianeti nani, come Plutone, che potrebbe essere un mondo oceano. Quindi parleremo in generale di come abbiamo intenzione nei prossimi decenni di esplorare questi mondi, senza andare così, a caso, ma creando proprio una roadmap specifica di come esplorarli per bene a tappe. Vediamo. Quindi, in parole semplici, che cos'è un mondo oceano? Beh, abbiamo detto prima che la Terra è un ottimo esempio. È un pianeta dominato dall'acqua e troviamo acqua sotto forma di oceani, troviamo acqua ghiacciata ai poli, troviamo un intero ciclo idrologico che porta l'acqua da vapore nell'atmosfera sotto forma di pioggia, a scendere, formare fiumi, laghi, eccetera, e passare anche attraverso la crosta e troviamo acqua persino legata a minerali all'interno del mantello della Terra. Quindi, la Terra è dominata dall'acqua ed è un mondo oceano, ma è fondamentale non solo per la storia geologica della Terra, ma anche per la vita come la conosciamo. Quindi, andare alla ricerca di altri mondi dominati dall'acqua ci sta aiutando a trovare anche altre forme di vita, almeno per come la conosciamo. Nell'interno del sistema solare non troviamo altri mondi oceano, conosciamo la Terra e sappiamo che forse su Marte ci sono in alcune condizioni particolari dei laghi sommersi, qua e là ci sono posti dove l'acqua viene ancora conservata sotto forma di ghiaccio, magari qualche rivolo qua e là in periodi molto eccezionali, però Marte non è esattamente un mondo oceano. Venere, beh, non parliamo di Venere perché sono 470 gradi, centigradi ovunque, e poi abbiamo Mercurio che, poverino, conserva soltanto ghiaccio ai poli e basta. Se vogliamo trovare dei veri mondi oceano, bisogna andare fuori, nella parte esterna del sistema solare, molto più lontano dal Sole. Quando i pianeti si stavano formando, oltre a una certa linea chiamata la linea della neve, i giganti gassosi conservarono tantissimo ghiaccio intorno e quando si sono formate le lune, beh, per almeno metà della loro struttura sono ancora dominate da ghiacci che erano presenti lì. Quindi l'elemento in generale più comune del sistema solare è l'acqua, ma questo è in tutto l'universo. L'atomo più comune dell'universo è l'idrogeno e il terzo atomo più comune è l'ossigeno, il secondo è l'elio, ma questo non ci riguarda perché è un gas mobile, e quindi la molecola più comune che troviamo è fatta da queste due cose insieme, è dell'acqua. Attraverso tutto il sistema solare quindi troviamo queste lune di varie dimensioni dominate da ghiaccio. Se hai un nucleo che è abbastanza caldo, riesci a sciogliere parte del ghiaccio e formare oceani dentro. Ora, probabilmente quasi tutte le lune grandi che conosciamo, a un certo punto della loro storia potrebbero aver avuto dei oceani sotto, almeno quando si sono formati e la struttura interna conservava ancora molto materiale radioattivo e quindi riscaldava la parte interna, il nucleo, e questo scioglieva almeno un po' del ghiaccio, potrebbe essere stata una cosa comune per tutte quante le lune grosse, e quindi la fase oceano potrebbe essere una delle tante fasi dell'evoluzione di questo tipo di lune. Anche solo scoprire questo sarebbe già un enorme passo avanti nella nostra comprensione di come si evolvono i pianeti, come si evolvono le lune e i sistemi planetari in generale. Ma siamo qui per cercare forme di vita e il problema è che tutto quello che sappiamo, il cambio di modo di pensare ai mondi oceano, è avvenuto molto di recente grazie a due grandi storiche missioni. Da una parte la missione Galileo e dall'altra la missione Cassini. Galileo è stato il primo orbiter intorno a Giove, ha esplorato le lune di Giove ed ha scoperto che per esempio le tre lune grandi esterne, Europa, Ganymede e Calisto, tutte e tre hanno oceani sotto. Europa in particolare è molto interessante perché sulla superficie vediamo delle enormi crepe dovute al movimento della crosta sopra sull'oceano liquido sotto. Un oceano gigantesco tra l'altro che ha molta più acqua liquida di tutta l'acqua liquida sulla Terra. E quando guardiamo all'interno della struttura vediamo che il nucleo viene riscaldato dal movimento di marea dovuta alla trazione di Giove ma anche dovuta alla trazione delle altre lune. Quindi interagiscono tra di loro riscaldando la struttura di questa luna. E' molto interessante perché essendo l'acqua a contatto con la roccia potrebbe essere un ambiente molto favorevole per la vita come la conosciamo perché hai bisogno per fare la vita di roba con cui costruirla. Non puoi fare la vita soltanto con acqua. Se hai solo acqua è un po' poco. Hai bisogno di energia, hai bisogno di carbonio, hai bisogno di atomi come azoto, fosforo, zolfo. Ti servono tutte queste cose per riuscire a fare la vita. E quindi è fondamentale che ci sia un contatto tra lo strato roccioso e l'oceano sopra. Nel caso di Ganymede, anche se c'è un oceano, in realtà si sospetta che sia presente all'interno tra due strati di ghiaccio. O secondo un altro paper potrebbero esserci fino a cinque oceani uno sopra l'altro nella struttura interna di Ganymede. Per Calisto è ancora più complicato. Non sappiamo di preciso quanto è a contatto con roccia o meno. Ma non ci sono segni sulla superficie esterna di movimenti di oceano così vasti come è successo nel caso di Europa. Quindi Europa, tra le lune di Giove, è quella più intrigante da questo punto di vista. Passando invece a Saturno, abbiamo tutta una serie di esempi di mondi ghiacciati. Ma uno su tutti è dominante da questo punto di vista, come mondo oceano, ed è Encelado. Una delle lune di Saturno grande è appena a 500 km, tra l'altro. Quindi fa quanto sarebbe poco più grande dell'Inghilterra se la mettessimo sulla mappa rispetto all'Europa. Questa piccola luna all'interno ha un vasto oceano globale di acqua ed è così riscaldato sotto pressione che attraverso delle crepe al polo sud lancia fuori dei campioni dell'oceano perché sono enormi geyser con penacchi giganteschi e formano addirittura un enorme anello di vapore intorno a Saturno. La sonda Cassini è passata più volte attraverso questi geyser e ha analizzato la loro composizione scoprendo che quell'oceano è anche a contatto con la roccia di sicuro e che probabilmente viene riscaldato da sorgenti ridotermali come è nata la vita? Probabilmente sulla Terra. Che dire che è intrigante è dire poco. Quindi almeno due esempi molto intriganti per la ricerca della vita ce l'abbiamo. Ma ce ne sono molti altri di più. Quindi vediamo un po' di linee generali su quello che ci aspetta per il futuro. Perché vi dico questo? Perché in realtà essendo missioni molto recenti fino agli anni 80, fino agli anni 80-90 il modo di ricerca della vita era concentrato su mondi terrestri. Si pensava principalmente a Marte per esempio. Nei ultimi decenni il paradigma è cambiato tanto perché scoprendo questi nuovi mondi oceano e non ho ancora menzionato tra l'altro Titano che oltre ad avere un oceano liquido all'interno del suo mantello di acqua probabilmente ha contato periodicamente con la superficie attraverso dei vulcani di ghiaccio cioè pensate vulcani da cui è rutta ghiaccio fluido o forse addirittura in alcuni momenti specialmente se ci sono impatti di asteroidi potrebbero esserci pozzanghere, laghi di acqua liquida che sopravviveranno abbastanza tempo riscaldate in quella zona a contatto con tutta una serie di composti organici perché tutta la superficie di Titano è piena di molecole organiche ci sono per esempio anche fiumi, mari, piove però non acqua ma metano liquido quindi è un mondo oceano con due tipi di liquide non solo con acqua ma anche con idrocarburi come metano ed etano liquido allora dicevamo abbiamo scoperto tutti questi posti strani e quindi in questo momento stiamo cambiando paradigma riguardo alla ricerca della vita e la NASA nel 2016 ha finanziato un nuovo programma chiamato Ocean Worlds e questo programma dovrebbe mirare all'esplorazione sistematica delle lune esterne del sistema solare e non solo le lune alla ricerca di oceani questa cosa è iniziata nel 2016 però da allora i scienziati all'interno una volta mobilitati hanno creato dentro un programma che si chiama OPEG che è un'organizzazione di scienziati che studiano Outer Planets Exploration Group è un gruppo di scienziati che si occupa dell'esplorazione in questo caso dei pianeti esterni e in particolare si sono dedicati in una sottosezione chiamata RAW Roadmap to Ocean Worlds a creare una serie di norme per esplorare questi mondi in maniera sistematica quindi invece di andare a caso ora possiamo mirare in particolare con delle tappe a come fare le cose per bene la prima parte sarà identificare tutti i mondi oceano quindi sappiamo già di alcuni, questo è come ho menzionato sopra i mondi oceano di cui siamo piuttosto sicuri sono Terra, Europa, Luna di Giove Encelado, Luna di Saturno, Ganymede, Luna di Giove Titano, di Saturno e Calisto, Torno a Giove poi dopo abbiamo altri candidati che potrebbero essere probabilmente dominati da acqua anche loro il pianeta nano Cerere, il pianeta nano Plutone la luna catturata, che un tempo era un pianeta nano e è stata catturata da Nettuno che è Tritone, che tra l'altro sulla superficie ha geyser giganteschi di ghiaccio anche lui è molto intrigante poi c'è Dione intorno a Saturno, Teti, Mimas, Giappetto tutte queste sono intorno a Saturno poi abbiamo le lune di Urano di cui non sappiamo quasi niente salvo che su alcune ci sono segni di fratture tipiche di lune dove ci sono oceani come per esempio abbiamo visto su Europa quindi se andate a cercare su Google la superficie di lune come Titania oppure Ariel vedrete, o Miranda, vedrete che ci sono fratture di ogni sorta e somigliano un sacco alle fratture che vediamo sulle lune dominate da oceani purtroppo una sola missione è passata vicino a Urano e Nettuno è a Voyager 2 e quindi i nostri dati sono basati su veramente poco in questo caso una volta trovati dobbiamo caratterizzare i loro oceani vedere quanto sono spessi, quanto sono a contatto con la crosta esterna se la crosta esterna una volta esposta allo spazio eccetera poi periodicamente viene riportata all'interno del pianeta o della luna verso l'oceano, quindi se c'è un riciclo della crosta se è a contatto con la superficie rocciosa una volta scoperte le caratteristiche di base di questi oceani possiamo passare a scoprire se sono abitabili in particolare dal punto di vista chimico potremmo trovare qual è la composizione di base se ci sono contatti, se ci sono le macromolecole grandi che potrebbero essere utili per la formazione di vita se ci sono per esempio aminoacidi e siamo in questa parte ora con Encelado per esempio nel caso di Encelado siamo già riusciti a identificarlo caratterizzarlo almeno in grosso modo e ora stiamo scoprendo cose riguardo alla sua abitabilità incluse molecole molto grandi, incluso segni di serpentizzazione quindi passaggio di molecole all'interno della crosta dopodiché il penultimo e ultimo passo sono la ricerca della vita e una volta trovata capire come la vita si compara, si paragona alle altre questo è importante perché una volta che troviamo forme di vita dobbiamo scoprire anche perché in alcuni casi nascono forme di vita in alcuni casi no perché per esempio magari troviamo forme di vita su Encelado ma non le troviamo magari su Calizzo che cos'è che manca, che cos'è che serve per avere la vita e se troviamo magari 5-6 diversi tipi di forme di vita all'interno del sistema solare pensate a quanto questo rende molto, molto probabile trovare vita un po' ovunque nel sistema, non solo nel sistema solare ma un po' ovunque nell'universo e attualmente conosciamo soltanto la vita sulla Terra ma la vita sulla Terra dura da miliardi di anni sarebbe fantastico trovare su una di queste lune vita che è molto più primordiale che magari è iniziata più di recente magari le condizioni sono diventate così come le conosciamo su Encelado soltanto da pochi milioni di anni come alcuni paper indicano per esempio alcuni studi hanno indicato che la Luna potrebbe avere un'età di appena 100 milioni di anni quindi in quel caso potremmo trovare la vita ai suoi inizi quando muove i primissimi passi quindi sì, planetologia comparata che riuscire a comparare gli oceani ci aiuterà un sacco a scoprire non solo l'origine della vita ma in generale come si evolvono questi corpi ora, per finire il prossimo vero passo al di là di tutto sarà unire insieme e creare una comunità di scienziati che si occupa di questo e nel paper pubblicato dalla Roadmap in questo caso i scienziati sottolineano l'enorme importanza di coinvolgere più oceanografi e studiosi dei oceani che lavorano sui oceani della Terra e farli lavorare anche a progetti che potrebbero essere utili per la ricerca di oceani in altri casi su altre lune perché prima che potiamo andare con sottomarini all'interno dei oceani di Europa possiamo già avere accesso ai nostri oceani e possiamo già iniziare a studiarli come facciamo per esempio per Marte perché prima di arrivare su Marte stiamo già usando gli ambienti estremi della Terra come i deserti più freddi i posti come Atacama o l'Antartide per studiare analoghi a come potrebbe essere Marte potremmo fare la stessa cosa studiando i fondali degli oceani sulla Terra per vedere come potrebbero essere gli oceani sulle lune esterne e cercare di creare le premesse per poi andare a esplorare il futuro non facciamoci trovare impreparati per quando poi alla fine finalmente avremo i soldi per lanciare le missioni dovevamo già iniziare a lavorare in quella direzione detto questo non so un video un po' più lungo ma c'era tante carne al fuoco fatemi sapere quali sono le missioni che vi piacerebbe vedere nei prossimi anni riguardo a questo ce ne sono già due in fase di preparazione e sono JUS una missione europea che andrà all'esplorazione delle lune ghiacciate di Giove in particolare andrà a orbitare intorno a Ganymede che è anche l'unica luna del sistema solare che ha un campo magnetico tutto suo e se ha davvero i 5 oceani wow sarebbe incredibile rispetto alle altre lune e poi c'è una missione chiamata Europa Clipper che partirà nel 2022-23 probabilmente 2024 in realtà e ci vuole un po' per finirla e dipende poi dal budget però verrà lanciata dalla NASA in orbita intorno a Giove e passerà svariate decine di volte intorno a Europa per creare una mappa molto dettagliata della superficie di Europa e studiare anche il suo campo magnetico l'oceano sotto usare il radar per studiare in profondità la crosta e quindi durante gli anni venti faremo un salto enorme di qualità nello studio dei mondi oceano del sistema solare se tutto va bene potremmo chissà magari avere anche una missione per Titano c'è un progetto che si chiama Dragonfly che vi lascio qui in descrizione che potrete andare a vedere e con questo noi ci salutiamo un grande abbraccio come sempre continuate ad essere meravigliosi e stritolatevi da parte mia che poi vi immaginate se riusciamo a trovare forme di vita su Plutone o la sua luna Caronte cioè di tutti i posti del sistema solare se finiamo per trovare vita su Plutone che abbiamo anche declassificato da pianeta pianeta nano Plutone potrebbe avere la rivincita più bella della storia dell'esplosione spaziale ah sì mi avete declassificato beh beccatevi questo come vi piacciono gli alieni ora sono un pianeta ora sono interessante povero Plutone noi ci vediamo presto per un altro video ricordatevi di iscrivervi ai vari social qui trovate anche la campanella dove potete cliccare per ricevere le notifiche su quando escono altri video e come sempre continuate ad essere meravigliosi